La riapertura delle spiagge libere in Calabria è prevista per il 20 maggio venerdì prossimo. Quest'anno non si potrà piantare l'ombrellone dove si vorrà. Bisognerà rispettare le distanze di sicurezza sull'arenile e in acqua. 18 i sindaci del Tirreno Cosentino preoccupati hanno chiesto un incontro al presidente della regione Iole Santelli. I comuni senza personale non possono garantire i controlli. È una provocazione ma allo stesso tempo un grido disperato di bisogno e di aiuto anche perché noi vogliamo offrire le nostre spiagge ma le vogliamo offrire in sicurezza e le vogliamo offrire nelle condizioni possibili. E se dobbiamo stare attenti al discorso della distanza fisica e di evitare gli assembramenti dobbiamo sistemare gli ombrelloni, le sdraio e quant'altro in condizioni di sicurezza con delle norme, con delle distanze, con delle regole. Per fare tutto ciò abbiamo bisogno di personale perché nel mio comune abbiamo tanta tanta spiaggia libera e non ho vigili a disposizione che possono far osservare queste norme. Vogliamo avere la tranquillità di offrire le spiagge in sicurezza abbiamo bisogno di un aiuto, di un sostegno, di un incoraggiamento a fare meglio. Perciò l'invito alla presidente Santelli di darci una mano proprio perché le nostre risorse sono risicate, le nostre economie sono veramente in difficoltà e allora abbiamo bisogno di sostegno e chiediamo questo incontro alla regione appunto per darci questa mano. Alla regione si chiede sostegno nel merito l'assunzione di vigilantes che facciano rispettare le regole di distanziamento sociale. Steward, vigili, controllori, vigilanti, come li vogliamo chiamare non è questo il problema. Abbiamo bisogno di risorse appunto per saper organizzare, migliorare l'organizzazione turistica sulle nostre spiagge. Le nostre spiagge hanno voglia di accogliere tutti coloro che in questo periodo forse le hanno desiderate più di ogni altro periodo, proprio perché l'emergenza Covid e il fatto di stare a casa in modo obbligatorio ci ha fatto desiderare ancora di più questi spazi. Ma ve li vogliamo offrire in assoluta sicurezza.